In arrivo la numero 20 Zampoli Silvia di Camerino In arrivo la numero 20 Zampoli Silvia di Camerino In arrivo la numero 20 Zampoli Silvia di Camerino In arrivo la numero 20 Zampoli Silvia di Camerino In arrivo la numero 20 Zampoli Silvia di Camerino In arrivo la numero 20 Zampoli Silvia di Camerino ecco Alberto c'è stile c'è stile ecco l'arrivo del numero 236 vita Alberto di Camerino ecco qua l'arrivo di Palmieri 1,20 e 73 15esimo tempo è già di nuovo l'arrivo di Camerino con il 279 ecco l'arrivo di Rico Zappararo di Camerino ecco l'arrivo di Rico Zappararo Ecco il ballino di Roberto di Camerino Eccolo, è in pista il 315, il brigio, Sandro di Camerino Sta arrivando il 330 che è in 1.29.34 Eccolo, all'arrivo Bravo, all'arrivo All'arrivo, ecco la ballina Dai Marco Bravo Giulio, dai 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 Giampaolo Dai 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 Massimo Dai 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 Buon caccia miseria Palla alla porta Marco Veramente sfortunato Con tutta la nostra comprensione Sono arrivato Paterazzi Marco Così si è giocato Buon caccia Un'amica già fretta Gianni Certo E tanto deve andare a casa umani Eccolo è lui È Gian Vincenzo Lascia i piedi Gianni Vai Gianni Vai Gianni Dai Gianni dai 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 Cristian Dai 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 Cristian Dai 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 Luca Dai Luca Dai 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 Bravo 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 That's so good Buono Gisella! eccolo il camerino è lui, è Giulio, è Giulio vai Giulio vai Giulio vai Giulio vai Giulio vai Giulio vai Giulio Grazie!